I crateri della Luna, gli anelli di Saturno, guardare il cielo attraverso le lenti di un telescopio. A rendere possibile questa esperienza anche un pubblico che forse aveva guardato le stelle solo per esprimere un desiderio è stata l'iniziativa Calafetta di Luna, organizzata a torre a mare da cieli stellati di Puglia in collaborazione con Proloco e il patrocinio del Municipio 1, con l'obiettivo di avvicinare la gente all'astronomia. Dalla terrazza facciata sul mare i giovani astrofili dell'associazione hanno mostrato le meraviglie di un cielo che conosciamo poco, eppure anche da un centro abitato superando l'inquinamento luminoso è possibile scoprire tantissime cose. Questo è un tentativo per sensibilizzare le persone a guardare oltre, non fossilizzare il proprio sguardo solo a ciò che gli circonda sulla terra, ma a guardare oltre, quindi a immaginare luoghi lontani che però questa sera riusciremo ad avvicinare il più possibile agli occhi di tutti. E se per molti la Luna conserva quel fascino romantico difficile da ignorare, la vera meraviglia è sempre rappresentata da Saturno, il sesto pianeta del sistema solare in ordine di distanza dal Sole e il secondo più massiccio dopo Giove, visibile in questi giorni attraverso un'attrezzatura professionale come quella messa a disposizione dall'associazione. Saturno è uno degli oggetti che diciamo fa emozionare di più il pubblico perché se ne può vedere, se ne possono vedere tutte le caratteristiche, il disco planetario, il sistema di anelli, le lune e lo si può fare anche da cieli cittadini come in questo caso qui a Torre a Mare. Connetterci con un qualcosa di più grande e renderci conto di quanto siamo piccoli e goderci anche un po' di più quello che abbiamo intorno, quindi vedere gli occhi illuminati e emozionati delle persone che osservano per la prima volta un oggetto celeste o Saturno che è tra i più emozionanti effettivamente non apprezzo per noi.